La Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania, al termine degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza di Salerno, ha riscontrato irregolarità nell'assegnazione dell'appalto per i lavori relativi a luci d'artista Kermes Natalizia del Comune di Salerno. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Salernitano hanno riguardato gli appalti di forniture d'opere, nonché le prestazioni rese e di finanziamenti complessivamente interrogati in occasione della decima, undicesima e dodicesima edizione dell'evento che ormai ininterrottamente dal 2006 si svolge nel capoluogo salernitano in occasione delle festività natalizie di fine anno. In particolare è stata evidenziata l'illegittimità di alcune procedure amministrative, poste in essere da responsabili comunali i quali, relativamente all'assegnazione degli appalti che hanno comportato una spesa complessiva di circa 8 milioni e mezzo di euro, hanno frequentemente fatto ricorso a donerosi affidamenti diretti, anziché procedere all'indizione di gare pubbliche così come ordinariamente previsto dalla normativa di riferimento. Le indagini sin cui svolte hanno consentito di accertare che tale iter procedurale ha consentito l'affido di lavori e fornitura ad un ristretto novero di società, individuate di volta in volta dai dirigenti comunali, in assenza di trasparenti procedure comparative pubbliche, ledendo in questo modo anche i principi di efficienza, imparzialità e parità di trattamento che dovrebbero caratterizzare l'agire amministrativo. Al termine della complessa attività investigativa svolta, la procura contabile ha individuato come responsabili del danno erariale accertato, quantificato in circa 850 mila euro, due dirigenti ed un funzionario del comune di Salerno, nei cui confronti sono stati notificati i formali atti di contestazione degli illeciti rilevati.